Lezioni riprese regolarmente nelle scuole di ogni ordine grado del comune di Arezzo. Dopo la conclusione dei lavori di pulitura, Stavani e gli istituti scolastici hanno riaperto come previsto. Queste immagini si riferiscono all'uscita dei bambini dalla scuola elementare di Ceciliano. Accessi liberati dalla neve e condizioni di sicurezza ristabilite. In tutti gli edifici scolastici del comune, gli impianti di riscaldamento sono rimasti accesi per evitare possibili blocchi. E i bambini hanno ritrovato le loro aule calde e pronti a riceverli. Sono stati liberati anche i principali marciapiedi che raggiungono le scuole. I dirigenti degli istituti scolastici statali e privati sono stati invitati, con l'ordinanza del sindaco, a garantire le condizioni per la ripresa delle lezioni. La raccomandazione principale riguarda il ghiaccio, che non può essere del tutto rimosso. Intanto si continua a lavorare per liberare altre strade e altri marciapiedi da ghiaccio e neve. L'amministrazione si prepara ad acquistare nuovamente sale e risetta, perché le previsioni non sono incoraggianti e si annunciano possibili nuove nevicate.